Buongiorno, benvenuti, buona domenica. Questa è la segna stampa di oggi, domenica 30 luglio, non più da New York. Diciamo che ci siamo spostati un po' più al sud degli Stati Uniti. Allora, leggendo i giornali italiani, oggi con un pochino di ritardo rispetto al solito per il fuso orario, me ne scuso sempre con voi se l'abitudine diventava di prima mattina, resta come tema centrale la questione del smacco francese sui cantieri di Saint-Nazaire. E ci sono oggi due cose che vi segnalo sulla vicenda. Senza dubbio oggi sul messaggero c'è il pezzo, il fondo di Romano Prodi, che fa il duro, fa il durissimo con i francesi. Dice proprio da me forse non dovreste aspettarvelo, però io dico una cosa, anche il topo ha il suo orgoglio. Prima cita invece un detto calabrese che è un po' diverso, che lui tradice in emiliano così, anche il topo ha il suo orgoglio, in maniera un po' bersaniana, Prodi oggi sembra citare sempre detti dell'Italia antica. È il detto calabrese che se l'agnello, il lupo agnello si fa, poi il lupo si lo magna. Sostanzialmente se ci facciamo deboli ci facciamo fregare, questo è il concetto. Ecco, quindi Prodi, da ex presidente del Parlamento europeo, fa il durissimo sulla questione della Francia. Però c'è una cosa, un sapore nel pezzo di Prodi durissimo, appunto con i francesi, che a me un po' mi fa discutere, ed è il sapore che lui stesso cita di una conferenza stampa in cui Chirac nel 97, a chi gli chiese se era possibile fare l'euro senza l'Italia, Chirac disse che l'Italia è l'Europa, e senza l'Italia non si può fare l'Europa. Però ecco, quello che mi viene in mente è questo, quando Prodi trattò insieme a Ciampi l'impresa italiana di entrare nell'euro, lì forse ci siamo fatti prendere un po' troppo dall'orgoglio. Ecco, chi agnello si fa il lupo se lo mangia, adesso qualcuno di voi mi dice esattamente come era la frase. Quando noi cercamo di entrare nell'euro, soprattutto quando noi stabilimmo il tasso di rientro nel sistema monetario europeo in una banda d'oscillazione che i tedeschi pretesero, e quindi una banda d'oscillazione che faceva sì che l'Italia era sopravvalutata rispetto al Marco, e poi da quello nacque il 1936,27 che era il concambio lira-euro, lira-marco, bene, quando noi facciamo quell'operazione forse peccamo un po' troppo d'orgoglio, pensando che noi, essendo una delle società più evolute dell'Europa e ci meritevamo di stare in Europa, alcuni dei prezzi che oggi paghiamo probabilmente nascono da quello scatto di orgoglio che Prodi fece senza pensare alle conseguenze. Detto questo, altra intervista oggi della Pinotti sul Messaggero, che qualche giornale definisce invece la quinta colonna francese in Italia, dice che senza questo accordo non si potrà fare il sistema di difesa europeo perché si dovrebbero costituire delle navi europee per la difesa europea e questo per farlo, la fusione tra i due cantieri sarebbe stato fantastico. Calenda è sempre il più duro, ex uomo della Confindustria che conosce bene le vicende, diciamo delle imprese, dice non arretreremo di un millimetro, non possiamo valere e avere una dignità inferiore a quella dei coreani che pure avevano il 66% di questa società e d'Italia gli chiedono il 50%. Devo dire che non fa una grinza il ragionamento che fa il Ministro di Sviluppo Economico Calenda. Infine Scalfari, la domenica c'è sempre l'articolessa di Scalfari, sapete io ho questo vizio ogni tanto di leggerlo, Scalfari l'ho letto per voi anche oggi. Scalfari oggi nel suo pezzo, peraltro non lunghissimo, è anche interessante perché non parla del suo rapporto con Dio, delle religioni o con il Papa, ma parla di Renzi. È divertente questa analisi psicoanalitica che fa oggi Scalfari perché dice in realtà Renzi rosica. Rosica sapete perché? Perché Macron è più fico di lui, perché Macron ha l'Eliseo, perché Macron ha la scendarmerie, perché Macron, questo lo sto dicendo io, sto aumentando io, perché Macron fa il duro e lui non può stare lì a contrastarlo. È più giovane, più bello, più bravo e più importante di lui. Ecco, ve la semplifico, ma questo è il senso del pezzo di Scalfari di oggi. Secondo tema di giornata è quello del Movimento 5 Stelle che hanno veramente rotto, perché adesso insomma io penso che oggi sia molto interessante il punto di vista che ha in mente Sallusti, che dice i disastri, perché loro dicono abbiamo ereditato i disastri e quindi non possiamo fare nulla, sono 13 mesi. È vero che hanno ereditato un casino pazzesco, ma dice Sallusti guardate che i disastri li ha ereditati De Gasperi dopo la seconda guerra mondiale, dopo la caduta del fascismo con un paese da ricostruire. Voi avete ereditato delle buche, dei fallimenti, delle aziende che non funzionano, dei problemi che sono quelli che la politica dovrebbe risolvere. C'è una differenza tra i disastri della prima repubblica e l'Italia della prima repubblica che è risolto con il grande sviluppo industriale di questo paese e quelli sui quali piagnucolate voi. E tra l'altro poi insulta duramente Sallusti Di Maio che un giorno sì un giorno no querela Sallusti e dice Sallusti in un caso mi hanno pure dato ragione i magistrati. Vediamo per gli altri. Perché nervosetta oggi la Raggi? Perché intanto querela Renzi che ha detto che c'erano dei raccomandati all'Atac, cosa che dice l'ex direttore generale dell'Atac, nominato dalla Renzi all'interno dell'Atac, che dice che gli sono state segnalate un'azienda e dei personaggi dal capo della commissione mobilità della Campidoglio che è proprio uno del Movimento 5 Stelle. Insomma, devo dire la verità che questo è il fatto che la Raggi se la prende col suo assessore al bilancio che ha detto su Repubblica ieri, ve lo ricordate, ha detto ieri che si va tutti quanti a sbattere, non soltanto Roma se si continua così, insomma la Raggi se la prende con tutti e dice state zitti. Adesso ci sono un po' di cosette di contorno, diciamo non quelle fondamentali che vi segnalo, abbiamo ancora 4-5 minuti. La prima è bellissima di Carlo Ravelli oggi sul Corriere della Sera e il Fisico che dice che l'UNESCO vorrebbe definire il salasso patrimonio dell'umanità perché lo chiedono cinesi e indiani come medicina tradizionale. Dice questa è la morte della scienza, pensare che una cosa che nel passato non ha mai funzionato possa, e che comunque aveva una grande tradizione, possa diventare un patrimonio dell'umanità. Se questo è l'UNESCO meglio abolirla perché dice anche l'inefficacia scientifica può essere letale. Riguarda una sua amica che è morta di un tumore al seno perché si è fatta curare con metodi tradizionali, come si suol dire tra virgolette, e non quelli protocollati della scienza che l'avrebbero, secondo Ravelli, salvata. Questo è il pezzo di Ravelli, diciamo un pezzo da scienziato contro le teologie della tradizione del chilometro zero, come ne vogliamo definire, che non servono a nulla. Maddalena dice io ci ho lavorato all'UNESCO, stendiamo un velo pietoso, mi sono scappata. Tanti di quelli che hanno lavorato all'UNESCO si rendono conto di che cosa sarebbe questa roba qui. Federico Faggina ha lavorato invece all'Intel, è bellissima la sua intervista fatta oggi, molto interessante, è fatta oggi dal Corriere della Sera in cui racconta l'uomo che ha inventato il microprocessore, cioè l'uomo più importante del mondo, cioè quello che sembrerebbe, avete presente Terminator, quello che inventa il microprocessore e lui ritorna indietro per prenderlo perché quel microprocessore farà distruggere il mondo? Lui lo ha inventato il microprocessore, da quello sono nati i telefonini e tutto quanto, intervistato oggi dal Corriere, è una storia stupenda perché lui inventa il microprocessore, esce da Intel e Intel dice se tu te ne va via da me, dalla mia azienda e ne fondi una delle tue, non avrai mai la paternità perché noi non ti riconosciremo come fondatori del microprocessore. Alla fine viene riconosciuto come fondatore del microprocessore, ma il punto è, in una pagina intera il Corriere della Sera non riesce a togliermi una curiosità che per me è fondamentale. Sei diventato ricco o no? A me divertiva saperlo, sarò un materialista, sarò un destro, sarò un liberista, chiamatemi come mi pare, ma quello che inventa il microprocessore non siete interessati a capire se oggi vive con le pezze oppure è un miliardario o strabiliardario, secondo me era uno dei primi interessanti invece in questa idea, non lo so quale sia l'idea, che il denaro sia lo sterco del demonio e non sia il metro del successo, e negli Stati Uniti è il metro del successo, abbiamo fatto un'intervista, bella per carità, ma mai fai sapere se sei diventato l'uomo più ricco del mondo? E a proposito di uomini più ricchi del mondo, oggi sul Sole 24 Ore ci sono i dati sulle 5 società di tecnologia più importanti del mondo, che sono Apple vale 780 miliardi, Google che vale 655 miliardi in borsa, Microsoft che vale 560 miliardi, Amazon che vale quasi 500 miliardi in borsa e Facebook che vale 500 miliardi in borsa. Queste 5 società quotate in America valgono 3 mila miliardi di dollari, due volte la ricchezza prodotta in un anno dall'Italia, non vi dico quanto vale la borsa italiana, perché queste 5 società valgono 10 volte la borsa italiana. Insomma, il punto che si pone in un bel pezzo Luca De Biasi, oggi sul Sole 24 Ore, queste aziende che danno impiego a 650 mila persone valgono due volte il PIL italiano, come le si ferma, si deve fermare, quali sono le regole antitrust sulle quali si deve ragionare? Insomma, questa è una grande sfida nel futuro. Mentre noi pensiamo alle sfide del futuro e a queste robe qui, oggi mi leggo due pezzi che riguardano il Ministro Boschi e il Ministro Martina che mi fanno cadere veramente le braccia. Il Ministro Boschi ha deciso di dare 10 milioni di Euro per un bando sulle pari opportunità che Borgonovo oggi sul Libero ci spiega essere in realtà un modo per trattare male i maschi, cioè una specie di canone educativo nei confronti dei maschi che si rendano conto che ci sono le pari opportunità. 10 milioni nostri per queste minchiate spese, con i soldi nostri per fare questi bandi che non servono a nulla. Risparmiate i 10 milioni. Le basareggere oggi Marco Cobianchi, oggi a proposito di donne e di uomini, sul giornale con i suoi Numbers, in cui si vede che in realtà le donne che hanno dei figli hanno una tassazione più elevata rispetto alle donne che non hanno figli. Allora, questo è un tema concreto, caraboschi, non queste stronzate dei bandi in cui spendiamo milioni, 10 nella fattispecie, dati alle cooperative di amichetti nostri che, come si è visto anche a Palazzo Chigi, poi alla fine vanno anche a finire in un onlus che si occupano di orge, orge e non dell'accettazione degli LGBT o dei diritti dei gay. Cerchiamo di andare su cose serie, cerchiamo di lavorare sulle questioni concrete, non queste minchiate di bandi. 1,8 milioni invece sono state date, secondo una denuncia della Coldiretti che leggo oggi sui giornali, dal ministro dell'agricoltura Martina, persona seria, alla LIPU, all'associazione che si occupa degli uccelli. Va benissimo, vanno benissimo gli uccelli, vanno benissimo i bandi, tutto va bene, ma poi questi soldi sono i nostri, noi ci lamentiamo del fatto che non riusciamo ad avere le pensioni, che non riusciamo ad avere le assistenze più deboli, eccetera. Cerchiamo di mettere delle priorità, va benissimo tutto, ma le vogliamo mettere le priorità? Vabbè, comunque andiamo avanti a farci del male. Nel resto del mondo intanto le società vanno a botte di centinaia di miliardi di euro. Il fatto oggi di che si occupa di un'altra intercettazione che trovano nelle carte della Procura e chi riguarda Renzi. Renzi in un sms avrebbe detto al padre, ha detto al padre, però l'avrebbe sempre in quella inchiesta, bisogna sempre metterlo in condizionale perché poi le trascrizioni non sono state così corrette, avrebbe detto al padre frequenti gente da vomitare e su questo ovviamente c'è l'apertura del fatto quotidiano. Frequenti gente da vomitare in un sms che mandi a tuo padre che va a finire su tutti i giornali. Vi consiglio e concludo su questo, vi consiglio di leggere Robert Spencer, si chiama Complete Infidels Guide, la guida completa sugli infedeli, free speech, racconta del fatto che i social network bannano, cancellano, tirano fuori dai propri sistemi coloro che parlano in maniera critica del mondo islamico, mentre invece agli islamisti e fondamentalisti è tutto lecito, e per loro è quasi tutto lecito, va bene? Mentre invece quando qualcuno si permette di parlare dei fondamentalisti islamici in termini un po' critici viene bannato da Facebook, Youtube e Google. Questo sostiene Spencer, leggetevi perché questo libro oggi sulla verità ne parla lui, lo stesso Robert Spencer, con degli esempi concreti di cose concrete che sono avvenute. La dittatura del politicamente corretto. Ragazzi, il libro sì in inglese Alessandra mi sembra perché l'ho visto soltanto col titolo in inglese e la cosa ridicola è per parlare, per sentire in Italia qualcuno che critica i social network dovremmo andare su un social network o comunque su Amazon che è una di quelle grandi corporation che nascono dal futuro digitale per potercelo procurare. Questo è il mondo incredibile in cui ci troviamo. Va bene? Un grande saluto a tutti quanti voi, buona domenica e ci vediamo domani. Ciao.